Buonasera e bene arrivato, bene arrivato. Questa sera una serata importante, come tutte quelle di questa maratona che ho deciso di fare, in un momento di stop, in un momento di stallo, chiamiamola guerra per quello che è, perché siamo completamente fermi, morti, ospedali pieni e quindi questo è realmente un momento difficile per l'Italia. Un momento in cui ci si può lamentare e basta, terrorizzare e basta, forse come qualcuno vuole, oppure trarne un vantaggio, cioè avendo il tempo giusto per recuperare le informazioni, anzi come in questo caso forse guadagnarne di altre molto importanti. Ed è il motivo per cui ti chiedo un'unica cosa, come sempre quando iniziamo le nostre dirette, condividi questa diretta, commenta, fai domande, perché tanto poi lo leggerò io, lo leggeranno altri per rispondere alla domanda. Ma la cosa più importante è condividi, perché dobbiamo mandare questa informazione in lungo e in largo. Perché sai come la penso, no? Da imprenditore a formatore oggi ho deciso di fare anche un qualcosa che non è mio, giornalista quasi filopolitico. Ma perché? Perché oggi non riesco a prendermi le informazioni, non riesco ad avere qualcuno che mi difende, che faccia i miei diritti, allora ho deciso di trovarmele da solo. Quindi come si fa a trovare le informazioni da solo? Oggi basta spegnere la tv di regime, perché come vedi tutte le tv danno la stessa novella, morti, disperazione, terrorismo, non ce la faremo, non si sa, quando realmente invece ci sono tanti tecnici, tanti professionisti, tanti virologi che osservano un momento brutto come questo e dicono qualcosa di diverso sul virus, qualcosa di diverso sulla società e oggi non ho potuto far meno che invitare qui una persona speciale, proprio per farti dare un altro punto di vista, ovviamente diverso, perché ognuno di noi ce l'ha diverso, ma per lui è un punto di vista molto ampio. Perché? Perché è una persona strapreparata, è una persona che ha visto molto, non solo dell'Italia, ma del mondo, è una persona che realmente si è fatto qualche domanda in più, come dovremmo fare tutti noi. Non berci la prima novella che ci danno, verità che ci danno, ma farci qualche domanda in più per capire il senso delle cose. Ed è veramente un grande piacere avere qui l'antropologo professor Giorgio Fabretti, che comunque è un professore che ha fatto tante cose nella propria vita, iniziando dall'essere laureato con l'Ode alla Sapienza in Filosofia e Antropologia, ha continuato gli studi a Berkeley in USA, per oltre 30 anni ha lavorato come antropologo e giornalista in oltre 100 nazioni, spesso poi non nazioni qualsiasi, in guerra, Vietnam, Cambogia, Afghanistan, è stato poi gravemente ferito in missione nel 90 e si è limitato poi all'insegnamento universitario, da sempre impegnato per la realizzazione del Parco dei Fori e dell'Appia Antica e per la conservazione del patrimonio antropologico e culturale dell'umanità. L'antropologo Giorgio Fabretti insegna all'Università di Roma Sapienza e presso la Pontificia Università della Santa Croce, giornalista, scrittore, conferenziare, professionista internazionale, insomma un'altra persona con un curriculum impressionante. Ed è quindi un grazie grande che faccio al professore, grazie di essere qui con noi, grazie, proprio perché è a disposizione nostra, mia e tua, per fargli delle domande e capire un po' come vede lui il mondo e soprattutto come vede in questo momento il mondo, perché stiamo parlando di una crisi che arriva dall'interno anche secondo lui. Salve professor Fabretti e quindi benvenuto. So che lei si definisce un meccanico della società, che cosa significa? Ce lo può spiegare? Sono frasi, metafore che uso per gli studenti, perché ho lavorato tantissimo con i ventenni, i venticinquenni, e quindi ho dovuto sempre fare dei paragoni, delle analogie a volte un po' paradossali. Il meccanico della società è quello da cui noi andiamo quando dobbiamo fare una gita a fiugi, ma non parte la macchina perché c'è lo spinterogeno che non funziona. Non possiamo, non siamo capaci di ripararlo da noi e quindi dobbiamo andare dal meccanico. Allora immaginiamo che la nostra civiltà perda colpi e che io sono come un tecnico dei rally della Renault, di qualche casa automobilistica, che progetta un tipo di semiasse, di ruote, di gomme e di altri pezzi particolari che probabilmente reggeranno quel tipo di percorso sempre che ci sia un guidatore attento. Ecco, in questo senso. Ottima, ottima riflessione. Non ci avevo mai pensato a poter vedere un meccanico che riesce a riparare queste altre cose. Allora, la domanda che mi viene da farle, professore, a me sembra che la società in questo momento sia malata, ma al di là del virus che in questo momento sta girando, malata intendo proprio che sia malata di odio, sia malata di ego. Cioè, sembra che la popolazione invece di essere unita sia proprio uno contro l'altro, che è un po' quello che, tra virgolette, sta accadendo un po' con questa malattia, con questo virus. Lei che cosa ne pensa? Qui vanno messi i puntini sulle I perché sennò è inutile chiamare l'antropologo. Allora, l'antropologo dice che l'egoismo è insito nel DNA. Per questo, se vogliamo un titolo bestseller, leggiamoci Richard Dawkins, un professore biologo che ha divulgato questo concetto, il DNA egoista. Costa poco, tutti lo possono leggere. Quello vi aprirà lo sguardo. Quindi, l'egoismo è un tratto della natura umana, che però è stato sempre contenuto nei milioni di anni, in cui noi siamo stati prima scimmie e poi primati, e poi ominidi, dalle difficoltà di natura, dalla scarsità. Abbondanze ed eccessi egotici hanno sciolto oggi un DNA che a noi appare come ebro, inebriato di se stesso. Io, non solo io, abbiamo definito questo stato dell'umanità come antropocentrismo. antropocentrismo, che con il mio lavoro di mezzo secolo, io ho eliminato. Mi sono applicato affinché non ci fosse più il concetto e il pensare antropocentrico. Con il lavoro che ho fatto io e altri insieme a me, a cominciare dal nostro maestro che è stato Darwin, abbiamo fatto la stessa operazione che ha fatto Copernico con il geocentrismo. Prima esisteva l'idea che la Terra fosse al centro dell'universo, ma per millenni. Poi a un certo punto è venuto questo prete, Copernico, timidissimo, che non volle mai pubblicare. Il suo lavoro fu pubblicato perché lo trovò nel cassetto dopo che era morto il nipote, in cui lui dimostrava, matematica alla mano, che la Terra era un pulviscolo nel sistema solare. Poi dopo di lui, lui aprì questa diga, poi dopo di lui abbiamo visto che è meno di un pulviscolo nel sistema, chiamiamolo, cosmico, nella galassia, eccetera. Allora, la stessa cosa serve fare oggi con l'intelligenza umana. Non è umana, l'intelligenza è diffusa, l'intelligenza è di natura. E oggi cominciamo a scoprirlo attraverso il DNA, attraverso i robot, attraverso l'intelligenza artificiale, the internet of things, le neuroscienze e via dicendo. Cioè noi capiamo che un atomo, l'atomo, la cosa che sembrava indivisibile ai tempi di Democrito, in realtà è pensante. Pensa. E se noi gli mandiamo dei messaggi, lui ci può rispondere. Ha una memoria che si chiama la memoria quantistica. Infatti esistono, stiamo lavorando ai computer quantistici, che supereranno di 50.000 volte la potenza dei computer attuali. Come vedete è qualcosa di estremamente materiale, che non ha nulla di utopico, ed è una scienza non nemmeno teorica, quasi pratica diciamo. Quindi si stanno aprendo orizzonti del tutto nuovi, in cui l'essere umano non è più centrale, tanto meno è il più intelligente. Ok, questo invece declino morale e sociale, secondo lei, poggia proprio su questa eccezionalità di pandemia globale? No, la risposta è no. Perché, come ho accennato prima, la pandemia è un sintomo, è come la febbre. Quindi, dice, è morto perché aveva la febbre a 41. No, è morto perché è stato invaso da un virus, e il virus poi ha provocato la reazione del corpo, che è la febbre, e noi l'abbiamo visto, così in maniera più empirica, più superficiale, morire con la febbre. Non è morto di febbre. Allora, noi dobbiamo dire, come l'egoismo e come la pandemia è un sintomo, diciamo, di fragilità del DNA umano, che è stato, immaginiamo, come un recinto di cavalli che sono cresciuti dentro un recinto, che improvvisamente si rompe, o per qualche ragione non vengono nutriti a sufficienza e rompono lo steccato. È probabile che molti di questi cavalli cadano nel precipizio, che ci sia un precipizio e cadano nel precipizio, oppure che vengano sbranati da qualche predatore, oppure che non riescono a mangiare a sufficienza e si ammalino. Ecco, allora, grosso modo è accaduto questo. Il nostro recinto era la natura, era la scarsità, che si era sincronizzata con questo libretto di istruzioni che è il DNA. Nel momento in cui noi l'abbiamo scatenato, cioè tolta la catena, tolto il recinto, questo DNA, che ha una sua spinta, una sua spinta, una sua forza vitale, si è sparso, si è espanso in maniera eccessiva. Quindi, la società malata, che è una parola che viene da Freud, il disagio della civiltà, e poi da Eric Fromm, che proprio scrisse un libro intitolato La società malata, può oggi, con l'avanzamento della scienza, identificarsi in questo trend insito, intrinseco, materiale, quasi direi informatico, che è dentro il DNA. Per cui questo DNA, in assenza di ostacoli, dovuti alla necessità dell'industria di vendere, vendere, vendere comunque, quantità di cose anche inutili, trova un alleato, un alleato in questo DNA, il quale è subriaca, si droga, si espande, fino a che si ammala. Ed ecco, una ragione di fondo della pandemia. Cioè, noi ci siamo espansi nella ricerca dei laboratori di virologia, di biologia, senza averne il perfetto controllo. Più o meno come abbiamo fatto con l'energia atomica. E poi abbiamo avuto Cernobie, poi abbiamo avuto Fukushima, e adesso abbiamo il coronavirus. Abbiamo avuto l'Ebola, abbiamo avuto l'AIDS. Quindi, non è una cosa straordinaria. È un... Una conseguenza. Una conseguenza meccanica. Parlo da meccanico. È una conseguenza meccanica di questo scatenamento del DNA umano, il quale si è espanso con eccessi in natura, e quindi la natura reagisce per ricreare il suo equilibrio in maniera punitiva. A volte punitiva. Catastrofica per noi. Professore, come possiamo imparare però da questo? Come possiamo, da singoli e da gruppo, evolvere dopo questa situazione e ricominciare magari in maniera migliore? Ricostruendo l'armonia fra l'uomo e la natura, il rapporto fra l'uomo e la natura, però non in maniera generica, cercando dentro di noi la risposta che poi è sbagliata, ma farlo in maniera scientifica. E quindi, da una parte, moderarci. Quello che può fare l'educazione, che è stata largamente sopravvalutata, sopravvalutata, e che può incidere dal 5 al 20% del comportamento umano in società, nelle civiltà, eccetera. E questo è senz'altro utile e può indirizzare l'uomo a costituire, costruire da sé, ricostituire i limiti di una vita biologica sana, anche un po', se vogliamo arcaica, un po' genuina, primitiva, contadina, e in un certo senso andare nei negozi del biologico, cioè a cominciare dall'alimentazione personale, a, come dire, al rapporto con contadini, facendo gite con i bambini, in luoghi dove gli animali sono liberi, dove le coltivazioni sono senza prodotti chimici, eccetera. Quindi questa è una forma, diciamo, anche di prevenzione sanitaria, è importantissima. Poi, naturalmente, dobbiamo attrezzarci sanitariamente, per dire, servono 100 infermieri e non ne dobbiamo avere 50, ne dobbiamo avere 100. Però, qui c'è un però, bisogna tenere conto che bisogna investire molto, uscendo da questa crisi, nella ricerca biologica. Perché? Perché se una determinata malattia viene risolta con un vaccino o con una medicina o con un altro mezzo, appunto l'educazione, i 100 infermieri non servono più. Quindi è una questione di armonia, di bilancio, di incastro, come la macchina. Tutti i pezzi lavorano uno insieme all'altro. Quindi questo è quello con cui dobbiamo uscire da questa pandemia. Cioè, grandi fondi alla ricerca medica, biologica, del DNA e in genere ambientale. Perché poi moltissime malattie vengono dall'inquinamento dell'ambiente. e poi, come vedremo poi, adesso continuando la conversazione, l'errore che ha fatto un certo ecologismo è stato quello di guardare solo il verde. Perché il verde è meno della metà del problema. L'altra metà è il recettore di questo verde. Chi in questo verde ci vive immerso? E cioè il rosa. Il rosa è le mucose sane. Quindi non è il colore della pelle. Le mucose sono sempre rosa perché c'è il sangue dietro. Quindi in tutti gli animali, tutti i viventi, la salute si vede dalle mucose sane. Quindi dalla dimensione fisiologica. Quindi non è sufficiente ed infatti non sono mai diventati un partito di governo globale i verdi perché hanno questo enorme limite che io cerco di compensare pur apprezzando molto la linea ecologista. Ecco, lei è preparato anche storia insomma nel passato io non penso che questa sia una crisi me ne ha citate altre riguardo SARS ma anche andando indietro nella storia lei visto che studia anche filosofia ma le crisi passate visto che ci sono state le pesti o tanti altri eventi del passato come sono stati risolti? Lei la storia l'ha studiata si ricorda qualcosa qualcosa che può paragonare a un momento d'oggi? Per me diciamo è un fenomeno molto chiaro e molto studiato le pandemie noi in passato le chiamavamo le pesti no? ci sono sempre state sono migliaia sparse in tutta la storia dell'umanità basta citare lo spopolamento del coloniale dell'America per avere un esempio gigantesco dove sembra insomma che addirittura l'80% della popolazione che era numerosa non come quella europea ma insomma era una popolazione numerosa è morta per malattie per influenze del tipo del coronavirus cioè dei virus che hanno? questo a partire dalla colonizzazione a partire dal 500 Cristoforo Colombo scopre l'America nel 1492 e nel corso del 1500 del 1600 ma fino ai praticamente ai nostri giorni queste popolazioni sono state aggredite senza la necessaria immunità insomma immunoresistenza e senza le medicine e le assistenze necessarie per cui è stato un genocidio a tutti gli effetti supera di gran lungo quello ebraico della Shoah quindi praticamente il popolo indio che era il popolo che popolava questo grande continente che è l'America è stato ha subito un genocidio di carattere cioè dove la violenza è stata il 5% 10% la vera violenza è stata la malattia armi acciaio e malattie è uno stupendo libro di antropologia breve storia degli ultimi 13 mila anni dove viene appunto ben descritto questo fenomeno cioè delle malattie che spopolano tendono a distinguere l'uomo non dimentichiamoci che noi siamo il ventesimo però oggi il quindicesimo ma presto saremo il ventesimo con le ricerche di paleoantropologia ominide scomparso quindi noi non siamo noi siamo esperimenti di natura l'uomo un esperimento di natura non è destinato a durare come i topi come le formiche che durano da 200 milioni di anni sono ultra collaudate i cosi le lucertole i coccodrilli vengono addirittura dai dinosauri dalla preistoria gli uccelli idem molti uccelli l'uomo no l'uomo è è difettoso è difettoso di fabbrica poi i preti lo chiamano peccato originale noi antropologi sappiamo che è un difetto di fabbrica proprio come una macchina quindi sappiamo che la natura lo vuole riprogettare quindi noi dobbiamo sapere che siamo una specie a rischio perché noi della nostra presunzione uomo sapiens vuol dire uomo presuntuoso è un termine sarcastico che è stato inventato nel 1700 che non ha quasi fondamenta appunto se non ironico allora noi nella nostra intelligenza abbiamo catalogato WWF tutte le specie a rischio non ci ha incluso a noi noi siamo una specie assolutamente a rischio nel 2015 lei ha scritto un libro proprio sul terrorismo sulla politica e sulla biologia ma come ha delineato cioè ha previsto un po' il futuro oppure no ecco appunto finendo anche di rispondere alla sua domanda precedente io ho scritto vari libri fra cui questo manuale antropologia e storia cognitiva e poi questo qua il sociale che è un po' e nuclea tutte le contraddizioni che portano al fallimento del marxismo e come Marx criticò il capitale io ho fatto uno studio analogo insieme a un mio parente Sraffa molto noto per ente acquisito che si intitola il sociale quindi l'evoluzione delle tipologie economiche che mi hanno consentito di fare queste chiamiamole previsioni così importanti diciamo di scenario che ho fatto quasi sempre al servizio delle istituzioni italiane e quindi Marx nell'Ottocento scrisse forme economiche precapitalistiche che poi trasfuse nel capitale io ho studiato le forme economiche capitalistiche cioè l'evolversi quindi sostanzialmente viste in chiave di lungo periodo biologico noi siamo passati stiamo in questo momento per inquadrare questo fenomeno del coronavirus stiamo passando dall'età del ferro e petrolio con il relativo dominio dei relativi capitali e imprese verso un capitalismo e anche dei consumi e dei bisogni umani che potremmo definire l'età della genetica e dell'informatica i due pilastri diciamo del futuro prossimo se non addirittura del presente e che sono dietro a questo conflitto molti si sono diciamo noi italiani diceva Churchill andiamo alla guerra come alla partita di pallone quindi questa è una guerra biologica e noi ci stiamo andando come alla partita di pallone molti italiani almeno e quindi hanno le chat sono i blog sono pieni di chi è stato ha cominciato prima chi è l'untore come si faceva nelle antiche pesti l'untore sono i cinesi o l'untore sono gli americani io invece lo vedo come un fenomeno al di sopra di questo torneo diciamo perché colpisce tutti perché è un fatto di civiltà e in un certo senso è pluribus unum cioè delle tante varietà poi ne risulta uno di fenomeno che è appunto il salto di civiltà dall'età del ferro all'età della genetica questa è la ragione per cui noi abbiamo e anche in borsa poi lo vedremo sarà evidente anche in borsa abbiamo la finanza che è una sorta di jolly che si sposta a secondo dei rendimenti che è una sorta di arbitro fra le tecnologie fra le imprese che sono invece legate al materiale alla tecnologia e allora noi abbiamo da una parte il vecchio capitale che è fatto di ferro e petrolio e quindi ha avuto la sua il suo punto massimo nella porta aerei che ha vinto la seconda guerra mondiale oggi la porta aerei è un vecchio arnese perché si distrugge con un hacker e con un drone attestata atomica tattica e ne resta la polvere insomma quindi di fronte a questi cambiamenti è evidente che emergono anche a livello appunto militare queste potenze che sono dovute all'informatica che aiuta la genetica perché il DNA non è nient'altro che un processo informatico fatto di 3 miliardi di combinazioni 0 1 1 0 0 1 magari sono 4 lì però sostanzialmente è è un software è un software e quindi è evidente che noi andiamo verso questo tipo di economia e di civiltà e quindi è facile è stato facile per me 50 anni fa perché io queste cose ho fatto i seminari nel 1970 alla facoltà di sociologia e istituto di antropologia culturale di cui ho fatto anche la biblioteca nel 1970 e già facevo il seminario sul fatto contro diciamo l'economicismo marxista dimostrando che cosa avrebbe fatto cambiare la civiltà erano le cosiddette infrastrutture non le strutture economiche che avrebbero seguito non sono alternative avrebbero seguito le infrastrutture che erano sostanzialmente le forze di natura cioè l'ambiente e le tecnologie cioè il rapporto con cui noi sfruttiamo le forze della natura queste sono quelle che fanno cambiare la civiltà non è la lotta di classe che è fallita miseramente quella è un problema reale perché tira e molla uno vuole avere di più di meno soffre per carità però il salto di civiltà avviene per questioni di rapporto con la natura che noi chiamiamo tecnologiche di base le più importanti per cui gli antropologi da sempre quindi non è invenzione mia dividono le età dell'uomo come età del ferro età del bronzo età del rame eccetera proprio perché le tecnologie sono fondamentali l'età della pietra sono fondamentali a dare la forma al veicolo civiltà venendo quindi al suo libro quello pubblicato nel 2015 lei anticipava forse un po' il futuro perché parlava di terrorismo di biologia e tutto quello che poteva concerne concerne la biologia e la politica insomma insieme quindi anticipato un po' il futuro che cosa si ho anticipato il futuro come le ho anticipato nella risposta precedente io seguendo diciamo lo spunto filosofico di Darwin diciamo del neo-darwinismo perché Darwin ormai non viene più insegnato se non come storia in realtà Darwin è diventato il neo-darwinismo e il post-darwinismo con le correnti più avanzate di cui faccio parte anch'io e quindi io dopo avere appunto fatto queste analisi avere parlato appunto di antropologia nel 2015 ho dovuto per una serie di prese di posizione che sono comparse anche in questi giorni sul coronavirus su tanti virus da parte di Bill Gates ed altri ho dovuto come dire dedicare un 4-500 articoli di giornale su Huffington Post e poi lezioni all'università parallele dove nelle lezioni si approfondisce mentre invece il giornalismo è più attualità e alla fine ho appunto inquadrato il fenomeno come terrorismo politica antropologia e biologia concludendo appunto che noi avremmo avuto delle catastrofi biologiche perché era inevitabile dato il tipo di macchina ripeto senza entrare nel merito del cattivo di chi avrebbe acceso la miccia perché la può accendere uno poi la accende l'altro il problema è quando c'è la miccia quando c'è la bomba prima non si può fare esplodere quindi era evidente già diciamo 30-40 anni fa che la direzione era questa era la direzione era questa quindi poi subito dopo ho fatto il movimento bio cioè un movimento che può sembrare un partito politico non lo è il movimento bio è fondato sul contrario delle velleità diciamo che hanno i politici i quali raccontano belle storie però poi non si realizzano mai ma prima di loro no tante altre prediche che sono state fatte poi l'uomo buono non l'abbiamo mai trovato anzi è sempre più cattivo allora è necessario capire che la natura lavora attraverso automatismi e gli automatismi comportano che non si creda troppo alla coscienza perché la coscienza viene manipolata quindi è importante capire quello che non può essere manipolato e che è la natura e cioè la struttura che ha la giungla il pianeta il cosmo e quello lì è più forte dei più forti tra gli uomini e quindi i potenti non hanno influenza anzi come diceva Joseph Conrad in cuore di tenebra questo colonnello Kurz che si era fatto la sua tribù che lo seguiva in tutto e per tutto poi in realtà chiede di essere bombardato distrutto ucciso perché si rende conto in fine della sua vita che lui ha sempre preso gli ordini dalla giungla allora noi andiamo a studiare la giungla e così capiamo meglio anche il fenomeno del coronavirus invece di perderci in Roma Lazio ecco a proposito di bio mi ha citato bio e vorrei citare una sua frase che vorrei mi spiegasse bio e moral moral senza bio espone a pandemie è certo perché noi abbiamo fatto sempre tanta morale le cosiddette prediche che poi o hanno razzolato male o proprio non potevano funzionare perché mettiamo che sarebbe tanto bene che il nostro cagnolino che noi amiamo tanto la facesse nel vaso e non ci costringesse tutte le sere a portarlo fuori anche quando siamo stanchi non c'è mai riuscito nessuno allora prendiamo coscienza che l'uomo è è un cagnolino di tipo diverso molto selvatico perché il cane è il vero alieno quando mi dicono gli arziani i cani esistono io dico sì sono i cani e i gatti perché ditemi voi quella specie animale la quale senza essere di nessuna utilità nessuna ha superato in numero la popolazione umana nel mondo e si fa mantenere a miliardi senza essere utile a niente lei è un imprenditore mi capisce eppure bastano quattro mossette del cane che ti ti guarda sembra che ti capisca ma lui veramente ti capisce di più ma non è la sua coscienza è la natura che lavora con questi casi allora noi dobbiamo apprendere questa lezione dalla natura ma anche dal cane cioè che profondi meccanismi che cambiano veramente la condizione dell'uomo verso l'armonia la serenità e la felicità passano attraverso la comprensione di determinati meccanismi di natura che sono degli alleli sono proprio dei software particolari dentro il DNA che producono insieme all'epigenetica non è che sono meccanici così attraverso il rapporto con l'ambiente producono i comportamenti chiamiamoli così gioiosi sereni della naturalezza quindi questa è diciamo il principio dell'etica che viene raggiunto attraverso la scienza cioè la scienza è quella cosa che ci fa fare bene il bene perché se noi vogliamo fare il bene ma non sappiamo farlo bene non faremo il bene sembra un gioco di parole però la verità è che la scienza si identifica con l'etica e l'etica si identifica con la scienza quando ovviamente non si tratti di una scienza al servizio della distruzione allora è un altro caso però quando parlo per me quando la scienza è al servizio della specie umana basta dire questa frase ecco che è scienza vera perché noi siamo uomini ed è normale che la nostra funzione fisiologica come il sudore come le deiezioni sono dei termoregolatori dei meccanismi di equilibrio che provocano la nostra salute la mantengono e così dovrebbe fare la scienza che non è nient'altro che un sudore della mente quindi ci aiuta a raffreddare a mantenere un equilibrio nelle nostre azioni ma la dobbiamo inquadrare all'interno di questa dimensione bio biologica ottimo questo punto di vista riguarda un po' la vita il significato della specie un po' animale da compagnia cane e gatti non l'avevo mai mai avuta quindi la ringrazio senta in che cosa consiste la ristrutturazione antropologica del DNA? è una frase delle tante che si dicono e che vuole dire tecnicamente questo usiamo sempre un'analogia una parabola come si dice nel Vangelo per farci capire è una macchinetta adattiva alcuni miei studenti di tanti anni fa dicevano al professore allora è un flipper oggi i flipper non ci sono più quindi si è evoluto il flipper il flipper è diventato il videogioco quindi diciamo così che questo DNA ha questa capacità di mutare di evolversi e di adattarsi ma a che cosa? per funzionare bene come anche il flipper bisogna usare l'ingegneria genetica l'epigenetica e la bioetica cioè con queste scienze applicate che non sono solo filosofia ma sono proprio entrare nei meccanismi di questo DNA si possono individuare quelle facoltà da rafforzare nel DNA rispetto ai veleni dell'ambiente tecnologico che però ci sta tanto comodo o per una ragione o per un'altra o perché ce lo impongono o perché ci sta comodo ha degli effetti collaterali come le medicine che ci sono utili per una cosa ma ci uccidono per un'altra allora in che cosa consiste la ristrutturazione il reset antropologico del DNA significa fare un grande sforzo di ricerca di possibile sostenibilità oggi si usa questa parola sostenibilità da parte della natura e dell'ambiente del nostro modo di modificarlo di cambiarlo di fare le megalopoli di fare ormai più della metà dell'umanità vive in megalopoli eccetera allora gli istinti dell'uomo che nasce come branco di scimmie assassine perché? perché l'uomo nasce si origina nella desertificazione della giungla pluviale la giungla pluviale è densa e gli animali stanno su alti alberi e così noi nasciamo scimmie sugli alti alberi perché lì siamo tranquilli e soprattutto ci nutriamo perché mangiamo frutta siamo fruggivori eccetera mangiamo qualche animale ma piccolo uova bacchi di altro tipo questa è la nostra partenza diciamo 20-30 milioni di anni fa poi che cosa accade che con l'andare e venire del clima le glaciazioni e l'aridità eccetera queste zone passano da giungla a savana la savana comporta alberelli piccoli e radure bush cioè cespugli allora l'uomo che fa ha difficoltà e diciamo nasce tra queste tante scimmie che muoiono in base alla selezione naturale che si riproducono che muoiono eccetera nasce una scimmia probabilmente macrocefala che però riesce ad armarsi a diventare assassina quindi è costretta a scendere a camminare su quattro mani ma anche su due perché perché le due mani o i due piedi le due zampe anteriori gli servono per i sassi e i bastoni che sono quelli con cui si difende dai leoni e dalle iene cioè quelli che erano abituati a mangiarsi gli uomini quindi l'uomo deve superare questa difficilissima fase e quindi diventa il più assassino degli animali noi ci abbiamo siamo i più cattivi che esistono sul pianeta terra parte da una difesa però in quel caso la cattiveria noi parliamo di mondo selvatico mondo di natura non c'è una cattiveria non c'è una malizia quindi l'uomo nasce con questa però quando non serve più e questa non se ne va via non è come dice insomma diciamo molti religiosi dicono tu prega e sì ma invece l'istinto resta e quindi si manifesta magari perché c'è che ne so uno stato una monarchia che vuole avere la supremazia su un'altra oppure c'è un popolo che parla una lingua e non ne vuole parlare un'altra si inventa il nazionalismo e fa una guerra mondiale e ci siamo ancora non siamo usciti da questa cosa perché nessuno vuole parlare la lingua cinese perché è fatta a ideogrammi e quindi magari quello diventa un elemento diciamo popolare per fare un conflitto mondiale fra chi scrive con le lettere latine e chi scrive con gli ideogrammi ora a Singapore l'hanno risolto perché la prima lingua che devono imparare è l'inglese perché la ritengono non inglese ma una lingua mondiale e un miliardo e mezzo di cinesi un miliardo e mezzo di indiani un miliardo e mezzo di islamici scrivono i loro alfabeti assolutamente incomprensibili agli altri allora ecco che piccole cose perché potrebbero essere risolte dai computer dai traduttori automatici eccetera possono invece venire sfruttate da determinati gruppi di interesse da una parte e dall'altra per generare un conflitto mondiale e questo è molto probabile siamo un po' su questa strada fortunatamente il il coronavirus è globale lui parla una lingua che va direttamente al DNA parla la lingua del DNA e siccome il DNA non parla una lingua quelle sono forme epigenetiche culturali molto successive e allora ecco che è globale ha una sua lingua globale da uno studio fatto da una biologa molecolare è stato dimostrato se non erro che una parte però dei cinesi quella del sud della Cina sono più vulnerabili a questo ceppo a questo virus cioè attacca tutti questo virus ma quanto sembra attacca di più maggiormente la popolazione non lo sappiamo sì è probabile andiamo avanti a statistiche come noi tantissimi tumori sappiamo che derivano da determinate sostanze alimentari che ingeriamo colori conservati ma non sappiamo esattamente come ci arriviamo per statistiche cliniche associando il consumo eccetera lo stesso vale per questo virus questo virus per esempio colpisce molto più gli uomini che le donne e sono state fatte varie ipotesi e questa è la scienza la scienza dà queste risposte però richiede la statistica l'osservazione e la statistica mi rilaccio a una cosa che stavo dicendo poco fa che mi ha un po' colpito perché era una ricerca speculare che ho fatto tempo fa cioè proprio specifica su il comportamento nostro dell'essere umano le nostre abitudini un po' ataviche e venendo quindi da metodi di caccia o metodi di difesa in una certa maniera il nostro corpo è proprio abituato a muoversi a scaricare l'energia e quindi in questa evoluzione un lavoro sedentario e oggi proprio essere a casa credo che a livello energetico mandi fuori di testa l'essere umano che ha bisogno di muoversi ha bisogno di scaricare esatto ha detto bene e aggiungiamoci a questo il male ormai di un secolo anzi di un secolo e venti anni da quando Thorstein Veblen scrisse il consumo vistoso un sociologo americano che inaugurò il consumismo il consumismo si fonda sul marketing e il marketing in alcuni casi è informazione e in altri è manipolazione e suggestione questo eccita la fantasia dell'uomo che dovrebbe essere invece per natura orientata a evitare i pericoli a trovare a predisporre le scarsità nei momenti difficili e invece accade che viene frustrato cioè questa questa dimensione poi si manifesta in aggressività verso il vicino di casa il condominio e fino a addirittura appunto guerre di popolo quindi noi dobbiamo capire che diciamo nei cani per esempio sono un ottimo esempio per spiegare questo fenomeno si sono oggi finalmente individuati alcuni alleli alcuni tratti di genoma che trasformano il lupo in cucciolo e in pet in animale domestico e quindi noi crediamo che il lupo è stato ammanzito da San Francesco ma quello è un simbolo non è vero che invece chi ha dimostrato scientificamente è un genetista russo sopravvissuto per caso alle stragi di Stalin il quale appena appunto morto Stalin fu riabilitato e gli diedero un fondo in Siberia lavorava a Novo Silvisch e c'è ancora lì il suo istituto e lui prese delle volpi selvatiche della Siberia che erano più feroci dei lupi e semplicemente dando da mangiare freò due recinti dando da mangiare a questo gruppo che venivano poi uccise per le pelli e lui si intermise si frappose a questa industria e gli fu concesso quando portava da mangiare alle volpi feroci e quelle che gli leccavano la mano invece di tentare di morderli le spostava nel recinto dei buoni in 18 anni ha prodotto delle volpi stupende che dormono a letto con gli umani così come i barboncini è quello che hanno fatto un po' con i cani con le linee di sangue dei cani è chiaro quindi questo che cosa dimostra che cosa c'entra l'educazione in questo fenomeno noi abbiamo vissuto nell'ignoranza spaventosa a partire dal mito della scienza perché noi è vero che abbiamo inventato la scienza ma l'abbiamo anche mitizzata il cosiddetto scientismo l'illuminismo è un delirio la dea ragione fatta da questa specie di pazzo che era il giacobino che gli ottinava tutti e poi quell'altra specie di velleitario che era Napoleone che voleva conquistare l'Europa ed è stato asfaltato e cioè si è creata una nuvola che poi è diventata fascismo nazismo comunismo cioè una nuvola di illusioni che facendo col dito così insegnando il pedagogo il maestro Mao Zedonga era un maestro non si sa quanti milioni di morti ha fatto e voglio dire Mussolini era un maestrino cioè non si sa questi maestrini che si illudevano della pedagogia quanti centinaia di milioni di morti abbiano fatto perché è errato è proprio infondato scientificamente cioè l'uomo ha una sua istintualità ha una sua vocazione se noi vogliamo ammanzire l'uomo non possiamo ancora più perché con gli animali possiamo fare la selezione d'allevamento mendeliana si chiama mendeliana con l'uomo non la possiamo fare perché si chiama eugenetica viene condannata perché l'unico che ci provò era Hitler e quindi si trasformò in sterminio noi abbiamo un senso della dignità umana per cui questi aggiustamenti possono essere fatti solo in chiave terapeutica cioè quando noi ci troviamo appunto in casi come questi o peggiori o comunque in tantissime malattie rare che non fanno pubblicità che non finiscono sui giornali eccetera noi al Bambin Gesù all'Umberto I a Roma abbiamo delle bravissime dottoresse che modificano il DNA per le cosiddette malattie rare questo è l'inizio di una lunghissima strada in cui noi renderemo l'uomo più forte a una società che bene o male gli fa male la vuole gli fa comodo ci si è adattato ma che però ha delle controindicazioni che richiedono proprio un mutamento genetico per cui noi andiamo a volte i miei studenti si spaventano della parola postumano noi andiamo gradualmente forse in 500 più anni ma andiamo verso un uomo novus un uomo stabilis cioè una stabilizzazione della specie umana dove probabilmente questo uovo nuovo non sarà nemmeno più accoppiabile col precedente che avrà nei nostri rapporti ma noi piano piano ci estingueremo è come più o meno avvenuto con il Neandertal cioè il Neandertal ormai lo sappiamo è dentro di noi nella forma del naso ci siamo incrociati noi siamo un ibrido fra il Sapiens che viene dal Nord Africa e con questo uomo un po' più grosso un po' più forte però chiaro di pelle eccetera che occupava l'Europa e che poi è scomparso è stato sostituito dall'ibrido che siamo noi dico quindi probabilmente questa è una storia naturale che non è il caso di drammatizzare né di usare mai parole come razzismo eccetera né capirne la dinamica l'evoluzione la dialettica e quindi seguire con scienza e attenzione senza distrarsi quelle opportunità che la scienza e la tecnica l'ingegneria genetica ci consente per la difesa appunto dalle malattie questo è un momento giusto per pensarci questa diciamo trasmissione è l'occasione il contesto giusto per riflettere in un movimento bio che appunto non è di carattere partitico ma è di carattere spontaneo cioè avviene perché la natura attraverso l'istinto di vita che hanno gli esseri viventi e noi fra loro e tende a reagire alle malattie con un atteggiamento suo proprio il cane magari si rintanerà l'orso andrà in letargo l'uomo invece usa la scienza cioè allunga le antenne e cerca di percepire nelle logiche che formano la natura quelle che lui può in qualche modo capire e utilizzare e in questo modo avvicinandosi e scorrendo nel flusso nel fiume dell'evoluzione della natura senza quegli sbandamenti o quegli eccessi o quegli attriti che poi noi chiamiamo pandemie catastrofi genocidi e a proposito di pandemia la domanda penso che tutti da casa a cui vogliono una risposta tutti da casa è professore al termine di questa pandemia perché finirà ci auguriamo in questi 30 giorni finirà cosa ci dobbiamo aspettare a livello sociale antropologico dopo uno stop dopo insomma questi arresti domiciliari senza aver commesso reato la gente come uscirà cosa ci dobbiamo aspettare beh intanto c'è il contingente quindi la gente tirerà il fiato quindi ci sarà un grande sollievo e una ripartenza però ci accorgeremo che niente più come prima se vogliamo agiscono anche meccanismi gattopardeschi nel senso che poi tutti quelli che sono i nostri vizi si riprodurranno in modo però diverso perché la spirale della storia è così che torna sempre sui stessi punti ciclica come diceva Vico ma a un livello diverso con modi diversi quindi noi probabilmente usciremo con Amazon Google queste diciamo grandi multinazionali dell'intelligenza che avranno raddoppiato il loro valore mentre come stiamo vedendo le industrie dell'acciaio e del petrolio le vediamo a Taranto in Russia in Arabia Saudita che chiede i prestiti adesso perché non ha più soldi noi vedremo che quelle industrie invece recedono non scompaiono questo accadde nella rivoluzione francese noi stiamo facendo una rievoluzione non ha carattere di Robespierre cioè di ghigliottina questa è una è un salto di civiltà però è sempre molto selettiva all'epoca cosa accadde che tutti gli aristocratici che vivevano di rendita della terra se la videro togliere ma non è che scomparve la rendita terriera semplicemente diventò prioritaria la borghesia cioè la produzione delle fabbriche e fu una forma che diede da vestire da mangiare a tantissimi operai eccetera e quindi fu un miglioramento della società adesso accadrà la stessa cosa noi siamo dentro una rivoluzione immaginate che queste teste che vengono tagliate dal coronavirus siano tagliate nel 700 da una rivoluzione diciamo più primitiva più rosa più sanguinaria questa è più chiamiamola anonima assomiglia più a una tempesta un tifone a un fenomeno della natura però ha in qualche modo la stessa funzione della rivoluzione francese cioè ci farà uscire dove noi saremo più attenti al bio al biologico alla nostra salute è una cosa preziosissima che noi tendiamo quando siamo bene a dare per scontata e invece no che ho fatto una diretta un video oggi proprio in un gruppo sto creando da pochi giorni da questa parte un gruppo che si chiama imprenditori uniti proprio per aiutare questo momento perché ritengo anch'io che questo sia un momento di crisi e come tutti i momenti di crisi porta per alcuni la morte o anche materiale o parziale o fisica per altri invece l'evoluzione cioè la specie si deve adattare per andare avanti quindi digitalizzare l'azienda creare un nuovo asset quindi trovare delle soluzioni come diceva il professore tirare fuori le antenne attraverso la scienza e trovare le soluzioni quindi siamo molto allineati quindi lo possiamo chiamare questa crisi la possiamo chiamare un momento di reset per l'umanità sì esattamente è un momento di reset in cui noi abbiamo dei caratteri come appunto nella genetica recedenti caratteri che diminuiscono di importanza nella civiltà ma anche nell'uomo e caratteri invece emergenti che sono appunto finalmente questa una certa consapevolezza di quanto sia importante essere sani per essere gioiosi felici eccetera c'è una soluzione lei mi chiederà sì se in questo scenario si può considerare positivo la risultante o negativa cioè che come la la risultante è negativa nel presente e positiva nel senso evolutivo ripeto perché non è che poi scompariranno le diseguaglianze nella società che ne riemergerà si riprodurranno a un livello diverso una cosa è certa che servirà a curare una malattia a una società malata cioè una malattia di questa società che sono gli eccessi della droga gli eccessi della mente gli eccessi dell'industria tutta una serie di eccessi che l'hanno di fatto sgangherata l'hanno resa una civiltà che perde i pezzi che si scollano questi pezzi e quindi verso una società più armonica dice se è creato il benessere bene allora adesso adattiamo anche studiamo anche un po' come adattare l'uomo all'abbondanza perché l'uomo è stato fabbricato per la scarsità abbiamo ottenuto l'abbondanza piace a tutti l'abbondanza bisogna saperla gestire bisogna saperla gestire l'abbondanza ma anche fare la macchina umana che sopporti gli aspetti tossici dell'abbondanza cioè che sia capace di moderarsi che sia capace di contenersi non è semplice l'abbiamo visto io negli anni 70 studiavo in America erano tutti magri gli studenti sono tornato negli anni 80 90 e ho visto l'obesità dilagata io sono stato in Sudafrica parecchio tempo e mi ricordo quando i sudafricani erano magrissimi facevano queste loro sfilate queste loro danze rituali ed erano pittoreschi belli da guardare oggi accendete la televisione guardate una sfilata una dimostrazione in Sudafrica l'obesità è la regola quindi voglio dire non parliamo nemmeno di paesi ricchi parliamo proprio di paesi dove entra il carboidrato a volontà costa ormai poco e quindi tutte quelle che sono le frustrazioni vengono sfogate con l'ingestione tra l'altro lei mi ha parlato più volte in questa intervista un po' dell'evoluzione che c'è stata e che c'è tecnologica a livello di informazioni ha parlato di Google di Amazon della facilità di reperire cibo come informazioni dove il marketing la fa da padrona quindi che cosa fa in alcuni casi informa in altri casi persuade allora le chiedo come si può arginare un po' la distrazione di massa dove è voluta dove non è necessaria è difficilissimo avverrà automaticamente e gradualmente non ci dobbiamo fare le illusioni del novecento che si possa fare con leggi drastiche noi con le sigarette abbiamo ottenuto di scrivere delle frasi di monito lo faremo con tutti i possibili prodotti sulle confezioni abbiamo fatto campagne di educazione la TV di Stato ha cercato di nonostante molti continuano a fumare dobbiamo essere pazienti perché è un processo graduale noi crediamo molto nella libertà nella tolleranza perché è efficace a livello biologico consente la vita e nello stesso tempo di modificarla quindi senza sopprimerla quindi questo significa che noi dobbiamo trovare un flusso da seguire questo flusso da seguire è una forma di sincronia graduale che noi otteniamo con tentativi ed errori come si usa nella scienza nei laboratori si va per tentativi ed errori l'umanità diventerà più scientifica diciamo così e sarà poi la scienza quella sorta di diciamo credo universale che senza togliere niente ai credi locali cioè alle religioni che restano sempre diciamo l'identità di un determinato popolo però creerà come la lingua britannica nella sua versione più semplificata diventerà l'esperanto che abbiamo sempre voluto cioè una lingua universale che si insegni a partire dal secondo anno come fa mio nipote il quale a due anni guarda i cartoni animati in inglese a tavola sul tablet e comincia a dire questo è un po' il futuro cioè trovare attraverso la scienza anche in campo biologico quello che è comune a tutta l'umanità a tutte le culture però glocale cioè nel senso che mentre è globale per determinati fenomeni è locale per determinate eccellenze tipicità caratteristiche eccetera questo dovrebbe consentire un convergere fluido della biodiversità della diversità culturale in una sorta di galleggiamento su questo fiume della natura che procede quindi diminuire gli attriti questo è in senso biologico ma anche fisico grazie allora l'ultima cosa che mi sento da chiederle ci sono dei consigli un'opinione che vuole dare delle raccomandazioni certo non è un medico però riguardo questa situazione ormai il decreto è stato chiaro dobbiamo stare a casa ci sono delle cose che vuole lei dire e consigliare alle persone che stanno a casa in questo momento prima di riniziare a uscire beh in questo momento da un punto di vista pratico è necessario sfruttare quello che è possibile della disgrazia e cioè concentrarsi su tutte quelle cose che non abbiamo mai avuto il tempo di fare e quindi essere pazienti essere pazienti prendere molti quasi la prendono come una vacanza non è male più che vacanza diciamo occuparsi di se stessi riflettere su se stessi e soprattutto riflettere sul fatto che abbiamo sempre dato per scontato la nostra salute e quindi fare un piano per il futuro in cui noi apprendiamo la lezione del coronavirus e la generalizziamo a tutte quelle che sono le nostre scelte un po' nella filosofia gandiana che diceva il mondo cambia quando comincia a cambiare te stesso e quindi diciamo potrebbe essere il momento filosofico di questo popolo molto filosofico che è quello italiano che forse sarà un po' sognante non particolarmente efficiente ma però mi sembra che ha usato questa sua filosofia nel come dire adattarsi anche a questa situazione di grande emergenza mantenendo tutto sommato una sua serenità un suo umorismo che è la cosa giusta da fare in questo momento bene grazie professore grazie di essere stato qui disponibile a rispondere con la sua esperienza la sua preparazione alle domande e per voi ci vediamo domani sera sempre alle ore 9 per una prossima diretta dove parleremo di un qualcosa che ti servirà quindi questo non è intrattenimento come trovi nei tanti canali ma è informazione e presa un po' di coscienza con professionisti con persone che hanno vissuto e visto il mondo con occhi diversi due raccomandazioni come sempre se non hai condiviso questa diretta condividila e per domani sera alle 9 prendi l'appuntamento se vuoi in famiglia perché puoi vedere la tv con l'intrattenimento che però che succede spegni la tv rimane tutto come prima oppure arricchire il tuo essere perché è il tuo essere che andrà a definire poi quello che riuscirai a realizzare nella tua vita perché non ci saranno attori o conduttori tv a gestire le tue finanze a gestire il tuo diciamo status e soprattutto a non fare le scelte alimentari anche per te e quindi è giusto potersi incontrare in un momento difficile come questo con personalità di questo calibro con medici con virologi per arginare il problema del virus ma anche approfittare come stavamo dicendo per crescere per evolvere per imparare una lezione di quanto noi siamo intelligenti da una parte ma quanto ci facciamo scivolare magari altro dalle mani iniziando proprio dal tempo quindi condividi questa diretta ci vediamo domani sera alle 9 e ricordati che ho creato da una settimana siamo già 8000 persone ho creato questo gruppo Imprenditori Uniti se sei una partita IVA o sei un imprenditore lì facciamo un lavoro simile a questo però specifico per chi ha partita IVA e per chi è imprenditore che oggi è veramente veramente in difficoltà perché deve badare a se stesso più di prima e non ha nessuno che gli sta dando realmente una mano grazie ci vediamo domani sera alle 9 grazie a tutti grazie a tutti